Oltre alle crepe ingiunte in comune ci sono anche quelle reali su strada, come in Piazza Matteotti a Chieti, ironizza il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Mario Colantonio. Io ho portato come esempio questa crepa longitudinale che va tra Piazza Matteotti e il tracciato di Via Arniense perché questo denota una totale assenza di attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Perché questi tipi di lesioni, specialmente su un luogo così vissuto come Piazza Matteotti, devono essere necessariamente attenzionate dall'amministrazione. Queste crepe che compaiono in questo modo e persistono da oltre un anno, questa che sta qui è da oltre un anno, non fanno altro che creare possibili infiltrazioni d'acqua e quindi dissesto nel sostosuolo e quindi danni ancora più grandi a quella che è la massicciata stradale. Dobbiamo in qualche modo sensibilizzare anche con questa attività che si fa di denuncia come consigliere comunale di questa situazione perché questi tipi di lesioni vanno subito messe in salvaguardia mediante una scarificatura dell'asfalto, una verifica della profondità ed evitare che ci si infili acqua piovana che poi può far danni ancora più grandi. All'attacco di Mario Colantonio risponde il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Ho avuto per 40 anni l'ambulatorio in Piazza Matteotti all'inizio di Via Argnense e di quella crepa se ne parla da almeno 10 anni. Io la vedevo quando passavo da medico e da semplice cittadino, adesso è diventato un problema. Va bene, il Comune monitorerà il dovuto, farà quello che occorre fare, però ribadisco e ripeto quella crepa c'è da almeno 10 anni. Dico queste cose non per ripetere la solita litania che è venuta a noi, anche a me, colpa degli altri o colpa di chi ci ha preceduto, però l'onestà intellettuale vorrebbe che quando si dicono delle cose bisogna dirle correttamente.